È terminata con un tripudio di colori bianco-azzurri la prima edizione della giostra dei Rioni di Olmo, che ha visto vincere la coppia di Fantini composta da Pier Giovanni Capacci e Marco Cherici. Il Rione, capitanato da Arianna Baldini, si è aggiudicato il prestigioso Olmo d'Oro, ambito trofeo realizzato dalla maestria dell'intagliatore Francesco Conti. La manifestazione equestre, realizzata sotto legida della Fite Trecante e Toscana, con il patrocinio della provincia di Arezzo, ha visto sfidarsi i quattro rioni della frazione situata alle porte di Arezzo. I bianco-rossi della Ripa San Zeno, Sant'Anastasio Madonna di Mezzastrada con i colori arancio-verdi, i bianco-verdi di Olmo Alto ed infine la compagine vincitrice di Olmo Basso. Mi dispiace, diciamo, per l'ultimo anello in curva perché potevo fare la prima, l'ho preso però mi è rimasto lì. Sì, però sono contento di aver corso con Marco, di avere un grande capitano come la Arianna perché, come diceva, siamo grandi amici. Una prima edizione particolarmente fortunata per il rione di Olmo Basso che si è imposto con Niccolò Parnetti anche nella dimostrazione ludica riservata a Cavalieri ed Amazzoni di età non superiore a 21 anni. Ad arricchire la serata la presenza del corteo storico e dei quadri configuranti che hanno riproposto scene di vita popolare, lavori nei campi, scuola ma anche giorni di festa ambientati tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Dalla qualità dei giostratori e dell'attenzione del pubblico si ha la dimostrazione che è un evento che credo meriti di essere ripetuto e credo troverà anche nei prossimi anni ancora più attenzione da parte non solo dei cittadini di Olmo ma da parte tanti cittadini di questa e di altre province. Ospite d'eccezione della prima edizione del Golden Special Giostra dei Rioni di Olmo, l'attore Sergio Forconi. È stata bella perché c'era i musici che avevano questi costumi, insomma, medievale. Poi questa cosa nuova di riportare all'inizio del Novecento è molto, insomma, ma un po' commosso perché io ho fatto dei lavori teatrali tipo Acqua Cheta, Il Gatto in Cantina, che vanno un po' a quell'epoca lì, specialmente l'Acqua Cheta e quindi mi sono ritrovato un po' anche nelle parti teatrali che ho fatto.